Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, l'argomento di oggi è un po' delicato se vogliamo e diciamo non riguarda appieno il mio canale di beauty ma voglio registrare questo video per diversi motivi prima di iniziare so che mi chiederete il tutorial di questo trucco in realtà è lo stesso che ho fatto quando ho provato la palette di Norvina quindi ve lo lascio qui se siete interessati, mi è piaciuto talmente tanto che l'ho rifatto identico, quella cosa non succede mai, cambio sempre il trucco o qualche ombretto l'ho praticamente rifatto identico per quanto mi era piaciuto tra l'altro è uscito anche un nuovo articolo sul blog che parla dei miei rossetti nude preferiti infatti oggi ho il rossetto nude perché devo andare a scattare le foto subito dopo aver finito questo video se vi interessa vi lascio il link qui sotto del nuovo articolo se volete andarlo a vedere vi dicevo il video di oggi riguarda le affiliazioni cioè come guadagnare su youtube ma in generale un po' con il blog volendo anche con instagram mettendo la funzione di swipe up attraverso le affiliazioni vi spiego perché ho voluto fare questo video per due motivi uno per far capire a voi persone spettatrici di youtube che esistono queste cose e come funzionano perché non ne parla nessuno, sembra che deve rimanere tutto nell'ombra e deve essere un segreto che io guadagno attraverso le affiliazioni no, vi spiego che cosa sono, come funzionano così anche voi siete magari in grado di decidere se voler dare i soldi a chi seguite vi spiego poi perché dico questo all'interno del video e due, voglio farlo per chi ha un canale youtube come il mio, diverso dal mio le affiliazioni vi permettono di guadagnare qualche soldino in più al mese le persone in generale hanno questa idea che se si fa youtube si guadagnano milioni di dollari scusate di euro anche facendo 100 visualizzazioni la realtà non è questa è difficile guadagnare su youtube e se si riesce a guadagnare qualcosina in più al mese attraverso le affiliazioni ben venga quindi voglio spiegare anche a voi che avete un canale come funzionano le affiliazioni se fino ad ora non avevate sentito parlare partiamo dal principio che cosa sono le affiliazioni le affiliazioni diciamo significa un po' collaborare con dei siti cioè vi spiego meglio avete presente se, non lo so, vi faccio un esempio così stupido può anche non essere, cioè a me non è mai successo però portate, non lo so, al ristorante perché avete un albergo portate al ristorante un gruppo di turisti il ristorante, perché voi li portate sempre i turisti vi dà in cambio una percentuale su quello che loro spendono il concetto è un po' questo cioè attraverso il link che metto qui sotto al video voi, se cliccate il link e fate l'acquisto nelle successive mi sembra 24 ore di tutto quello che spendete una piccolissima percentuale non pensate che sia tipo il 40% perché non è così parliamo di percentuali piccolissime che si aggirano tipo intorno al 2% poi ovviamente dipende dai vari siti però sono percentuali davvero piccolissime quindi, aspettate, prima che vado avanti parliamo di percentuali piccolissime in base a quello che spendete una percentuale rientra a me che ho mandato voi sul sito attraverso i miei link questi sono i link di affiliazione facciamo un esempio la collana è di una marca che si chiama Happiness Boutique e viene rivenduta su Amazon io metto il link della collana qui sotto può essere anche il rossetto può essere lo smalto può essere qualsiasi cosa io metto il link della collana qui sotto ho un link di affiliazione con Amazon se voi cliccate quel link e nelle successive 24 ore comprate qualsiasi cosa non dovete comprare per forza la collana di tutto quello che spendete una piccolissima percentuale mi rientra a me perché ho questo codice di affiliazione capite bene che non è così facile guadagnare attraverso queste affiliazioni uno perché le persone che guardano non ne sanno l'esistenza e due perché non è che tutti quelli che entrano sul sito attraverso il vostro link fanno un acquisto per questo motivo vi dico se vi fa piacere supportarmi attraverso le affiliazioni attraverso i miei link di affiliazioni se dovete fare un ordine su uno di questi siti e decidete di comprare attraverso i miei link di affiliazione io vi ringrazio tantissimo perché per me sarebbe un guadagno e ovviamente sarebbe qualcosa di più a fine mese e ben venga voglio dire per girare i miei video e comprare tutte le cose che compro spendo davvero tanti soldi e molto spesso non ci guadagno perché ci vado forse a paro o anche in perdita quindi se riuscisse a guadagnare qualcosa di più ma soprattutto se voi scegliete di comprare di fare degli ordini attraverso i miei link di affiliazione io davvero non posso che ringraziarvi con tutto il mio cuore come funzionano in realtà questi link di affiliazione? passiamo alla parte più pratica che magari può interessare a chi ha un canale YouTube ma può interessare anche a voi spettatori per decidere, vi ripeto, se dare i vostri soldi a qualcuno che non devo essere per forza io ma a qualcuno che guardate e che supportate sapendo che esistono questi codici di affiliazione praticamente ci sono dei siti che vi permettono di generare questi link di affiliazione con tanti siti cioè ad esempio per Amazon dovete fare il link di affiliazione dovete registrarvi attraverso Amazon e poi c'è direttamente una parte che vi permette di creare il link di affiliazione quindi lì siete legati strettamente al sito di Amazon per tantissimi altri siti ci sono invece dei siti specifici che permettono di creare dei link di affiliazione uno che è quello che ho scoperto io da poco che utilizzo si chiama Reward Style ed è praticamente un sito che vi permette di creare questi link per tantissimi altri siti ve ne menziono alcuni sempre per il fatto se magari volete acquistare in questi siti sapete con quali ho i link di affiliazione non è che io decido con chi mettere i link di affiliazione alcuni siti non li mettono ad esempio MakiLalia cioè MakiBeauty che è la versione italiana non mi permette di creare il link di affiliazione quindi se io vi metto il link qui sotto non ci guadagno nulla se voi entrate attraverso il mio link tantissimi altri siti sono invece Amazon, Asos, Beauty Bay, Cult Beauty, Feel Unique, Sephora l'ho scoperto da poco Pull&Bear, Forever 21, Super Dry che è una marca fighissima sta a Roma Est il negozio io pensavo fosse un mega negozio cinese invece sono entrata l'altra volta con mia sorella ho scoperto che è un negozio di abbigliamento fighissimo l'altro è Topshop Misoma Nike Converse Booking non lo sapevo l'ho scoperto adesso mentre si lavo la mia lista qui da dirvi nel video e Gucci ma ce ne sono tantissimi altri vi lascio comunque la lista qui sotto con a fianco il link di affiliazione se volete supportarvi in questa cosa per quanto riguarda queste applicazioni come funziona il pagamento e tutto quanto solitamente questi pagamenti vengono effettuati sul vostro conto Paypal o in alcuni casi possono essere effettuati direttamente sul vostro IBAN possono essere effettuati mi sembra su Amazon anche tramite assegno o qualcosa del genere ci sono diverse modalità di pagamento alcune pagano a 60 giorni perché magari devono tenere il tempo per fare i conti per vedere che la gente non rimanda le cose indietro altri pagano ogni settimana dipende un pochino da sito a sito in realtà in giro per internet ci sono tantissimi tantissimi altri siti che vi permettono di creare questi link di affiliazione però diciamo che vivendo in Italia siamo un po' sfigati sotto questo punto di vista perché tanti siti sono legati strettamente a siti americani cioè non permettono di creare link di affiliazione su siti europei o italiani capite bene che io non ho interesse a mandarvi su un sito americano perché se comprate da lì c'è la dogana io per prima non compro in America perché so che c'è la dogana quindi sarei una cretina a mandarvi lì e a farvi spendere soldi inutilmente per la dogana quindi non lo faccio preferisco non farlo diciamo che quando si fanno queste cose non bisogna pensare solamente e strettamente al lato economico ma bisogna comunque essere fedeli con quello che si fa e con se stessi e non consigliare una cosa soltanto perché avete il link di affiliazione ma comunque rispettare le persone che vi seguono ed essere sinceri sotto questo punto di vista cioè se io compro gli occhiali non so perché ce li ho qui davanti ho il link di affiliazione per gli occhiali ma vi fanno schifo io non posso dirvi andate a comprarli perché sono bellissimi perché poi voi li comprate vi fanno schifo e non mi seguite più io sono fedele a me stessa e se gli occhiali mi fanno schifo ve lo dico che mi fanno schifo anche a mio discapito sapendo che voi non cliccherete su quel link e a me non entreranno i soldi ora sappiate che ci sono tantissime persone che non sono a conoscenza parlo di youtubers ci sono tantissimi youtubers che non sono a conoscenza di questi link di affiliazione che neanche li utilizzano tanti che li utilizzano ma che non ve lo dicono tanti che li scoprono e ve lo dicono come sto facendo io in questo momento spero che questo video possa esservi utile sia per aver capito come funziona un pochino questo mondo ma anche se avete un canale per permettervi di guadagnare qualcosina in più a fine mese che anche se è poco però formichina di qua formichina di là un pochino si accumula e si va verso il sogno di far diventare youtube un lavoro a tempo pieno visto da fuori sembra che sia una cosa facilissima farlo ma vi posso assicurare che non lo è anche perché se avete un piccolo seguito sarà altrettanto piccolo quello che riceverete da questi link se avete un seguito di 2 milioni di persone capirete che questi link di affiliazione iniziano a diventare molto importanti per il vostro guadagno attualmente per me ve lo dico tranquillamente non sono una grande fetta di quello che guadagno sono davvero una parte piccolissima però sono sempre qualcosa e vi ripeto magari mi permette di andare di più verso il sogno di far diventare youtube un lavoro a tempo pieno e non stare sempre con l'acqua alla gola nel dire questa palette vorrei farla tanto vedere nel mio canale vorrei testarla ma se compro questo non posso comprare tutte queste altre cose devo pensare anche a questo devo gestire bene il mio budget quindi per me sarebbe un grandissimo aiuto un'altra cosa che volevo dire prima che mi dimentico non esistono solo questi link di affiliazioni diciamo a tempo indeterminato cioè voi li mettete lì se li cliccate adesso se li cliccate tra mille anni non lo so vabbè comunque se li cliccate tra un anno o due valgono ancora esistono anche dei link di affiliazione che vi possono dare delle aziende cioè l'azienda Ray-Ban sempre torniamo agli occhiali mi manda gli occhiali non è così lo specifico così sono tipo un regalo di vent'anni fa non so da quanto tempo ce li ho Ray-Ban mi manda gli occhiali mi dice ehi ho un codice sconto del 10% per chi ti segue e si acquista sul nostro sito ma allo stesso tempo ti do un codice di affiliazione quindi i tuoi followers avranno uno sconto del 10% se acquistano tramite il tuo link ma di tutto quello che acquistano a te entrerà una piccola parte parliamo vi ripeto sempre di percentuali piccolissime solitamente quando si fanno queste collaborazioni i link di affiliazione hanno una durata che va stabilita insieme all'azienda che può essere di una settimana può essere di un mese può essere di sei mesi quello lì lo vedete insieme all'azienda non tutti sono così nel senso non tutto quello che mi mandano non tutti i codici che mi danno sono codici di affiliazione io voglio essere sincera con voi al 1000% quindi ho deciso che qualsiasi cosa possa farmi guadagnare attraverso voi io ve lo dirò e come vi ho detto nell'altro video spero tanto che apprezziate la mia sincerità non ci tengo a prendervi in giro non ci tengo a dirvi ehi non ci guadagno nulla da questa cosa però comprate cioè non sono io questa se mi danno un codice di affiliazione io ve lo dico perché apprezzo quello che fate per me apprezzo che tutte le volte che io carico il video voi lo guardate mettete il mi piace lasciate un commento qui sotto quindi non vedo perché vi dovrei prendere in giro e far finta che non ci guadagni nulla quando invece ci guadagno anche se vi ripeto ragazzi è talmente piccolo che non mi cambia la vita però ci tengo a dirvelo niente spero che questo video non sia stata una rottura di scatole magari per tanto per tanti lo è stato e tanti hanno già chiuso il video millemila minuti fa spero che se avete un canale questo video vi possa aver aperto un mondo io vi lascio tutti i link utili qui sotto in descrizione e nell'info box sia che decidete di supportarmi sia che volete soltanto vederli sia che siete degli youtubers e volete magari essere indirizzati direttamente ai vari siti di affiliazione e niente come al solito grazie per aver guardato il video se vi è piaciuto e vi è stato utile spolliciate all'insù o iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto io vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo prestissimo in un nuovo video ciao ciao